buonasera a tutti questo è il tramonto di roma bello è il cupolone vabbè ma questo non è un video turistico di roma è un video per festeggiare la fine della lavorazione di choose love sono passati due anni da quando abbiamo iniziato a lavorarci è passato non sono passati molti mesi dall'ultima diretta in cui vi raccontavo molte cose tra cui il fatto che stavamo per chiudere la campagna di crossfunding che poi è stato un grande successo e che avremmo deciso di fare una una festa per i coproduttori e così è stato oggi questa diretta quindi è per festeggiare il fatto che stiamo chiudendo il film oggi abbiamo fatto abbiamo finito la color correction domani metteremo gli ultimi titoli e abbiamo chiuso anche il sound design oggi ho richiesto il film per già la millesima volta e spero di aver fatto un buon lavoro ma poi sarete voi a dirmelo quando lo vedremo e vi racconto questa storia bellissima che è successa è successa oggi perché a giugno dell'anno cioè giugno di pochi mesi fa stavamo lavorando al film e per fare le lavorazioni incominciamo a mettere alcuni titoli ovviamente provvisori perché non sappiamo ancora di certe cose di certe perché poi certe cose di sicure perché poi i titoli li mettiamo alla fine e io ho messo un titolo in testa al film per ringraziare tutti i coproduttori avevo messo un numero a caso 1172 e quindi una delle prime cose che si legge nel film è un ringraziamento a tutti quelli che hanno finanziato il film e oggi facciamo il conteggio finale perché proprio oggi motivo anche della diretta si è chiusa la campagna di crowdfunding per cui in queste ore non sarà più possibile fare sostanzialmente contributi dai contributi e io ho scritto un numero a caso ai tempi quindi 1172 oggi facciamo il conteggio di tutte quante le persone che hanno partecipato al finanziamento del film che sono esattamente 1172 quindi a giugno in qualche modo avevo già deciso indovinato il numero delle persone che avrebbero partecipato al finanziamento di questo film bellissimo perché come si dice il caso non esiste la nostra mente crea e questo l'ennesimo esempio mi piace raccontarvi perché è successo è successo proprio poche ore fa per cui sono ancora emozionato con gabrie mia moglie che ha fatto il conteggio non credevamo ai nostri occhi però è vero è così e quindi insomma oggi si è chiusa la campagna e quindi voglio ricordare a tutti gli amici che hanno reso possibile il nostro film perché questo film è di tutti di tutti coloro soprattutto che l'hanno reso possibile che il 17 novembre ci sarà l'anteprima mondiale esclusiva solo a chi ha partecipato e ha contribuito alla creazione del film io spero che ci siano tutte 1172 persone anche se qualcuno deve venire dalla sicilia quindi magari un po fuori mano perché vorrei abbracciarli tutti personalmente e a dare a tutti loro il contributo che si meritano quindi il contributo che hanno scelto del perk e quant'altro ora se ci saranno un po meno di mille 1782 persone andrà bene lo stesso anche perché se siamo tutti non c'entriamo però insomma mi raccomando cercate di esserci numerosi e perché voglio guardarvi negli occhi e ringraziarvi e ricordarvi che questo film esiste anche grazie a voi ovviamente per tutti gli altri il film sarà possibile per le prime visioni subito dopo 17 novembre e tra pochi giorni anzi è già online le date ma tra pochi giorni le pubblicheremo ufficialmente nei social e quant'altro quindi avanti tutta ci vediamo il 17 novembre e ci vediamo in giro per l'italia per le prime del film grazie a tutti e in la catch come si spegne sto coso così